Ciao ragazzi! L'8 dicembre 2020 IM8Bit, società californiana che lavora nel mondo dell'intrattenimento producendo videogames, film, musica e via discorrendo, ha rilasciato in edizione fisica i due capitoli della serie Ori, due videogiochi sviluppati dallo studio indipendente austriaco Moon Studios e prodotti rispettivamente nel 2015 e nel 2020 dalla divisione Xbox Game Studios di Microsoft. Ebbene sì, un po' sorpresa, oltre che su Xbox e Windows entrambi i titoli sono arrivati anche su Nintendo Switch, anche se dapprima nella sola edizione digitale. Ori and the Blind Forest era infatti stato inserito nelle shop a settembre del 2019, mentre Ori and the Wheel of the Wisps a settembre 2020. Ora, grazie appunto allo zampino di IM8Bit, sono arrivate anche le edizioni fisiche corredate da qualche bonus aggiuntivo come le colonne sonore dei rispettivi giochi ed alcune cartoline da collezione. Visto che io ho comprato le edizioni fisiche, come son solito fare con tutti i giochi che acquisto, voglio darvi le mie considerazioni al riguardo. Vale la pena prendere le edizioni fisiche anziché puntare alla digitale? Come si comportano i due titoli sulla piccola ibrida della casa giapponese? Andiamo a scoprirlo. Prima di rispondere a queste domande, però, ma di che cosa stiamo parlando? Ori and the Blind Forest è un gioco di avventura a piattaforme 2D metroidvania nel quale i giocatori assumono il controllo di Ori, un piccolo spirito guardiano. Alcuni elementi del gameplay riprendono quelli di serie come Rayman e Metroid. Comunque Ori può saltare, arrampicarsi ed usare diverse abilità per combattere nemici e risolvere i rompicapo che si nascondono nelle varie aree della Blind Forest. Le suddette abilità di Ori sono upgradabili, cioè man mano che egli ottiene un nuovo punto abilità, il giocatore può spenderlo per rafforzare o ampliare le capacità del piccolo spirito guardiano. Tali miglioramenti sono importanti perché permettono di accedere ad aree precedentemente inaccessibili. I punti abilità si ottengono quando Ori accumula abbastanza esperienza uccidendo i nemici, distruggendo piante sparse qui e lì, oppure trovando contenitori di luce e di spirito o direttamente delle rare cellule di abilità. Ogni miglioramento può essere appreso da uno dei tre possibili alberi dell'abilità, ma può essere fatto solo in ordine sequenziale, cioè prima di sbloccare un'abilità specifica occorre aver sbloccato tutte quelle ad essa precedenti. In specifici punti della mappa di gioco è possibile salvare i progressi, ma in più si può sfruttare il sistema di creazione dei punti di controllo, chiamato Soul Links, che una volta attivato salva appunto lo stato corrente. Ma il Soul Links serve soprattutto per accedere agli upgrade ed è possibile creare un punto di controllo solo se si hanno a disposizione le giuste risorse, quindi al giocatore non conviene abusarne. La trama di The Blind Forest è stata in qualche modo ispirata dai Re Leone e dai il Gigante di Ferro, e viene raccontata durante il corso del gameplay dallo Spirit Tree della foresta di Nibel, il mondo in cui è ambientato il gioco. All'inizio dell'avventura, lo Spirit Tree ci racconta di quando Ori, neonato, durante una tormenta precipita trasportato dal vento e viene trovato ed adottato da una creatura di nome Naru che lo accoglie come un figlio. Qualche tempo dopo, un evento catastrofico fa appassire tutta la foresta e Naru muore di fame. Rimasto dunque orfano, Ori non ha più motivo di restare nella tana di Naru e decide di partire alla scoperta della foresta in cerca di sostentamento. Ma alla fine, senza cibo, crolla sfinito proprio nei pressi dello Spirit Tree, il quale con le sue ultime forze decide di rianimarlo. A quel punto, Ori incontra Sein, un piccolo globo che lo guiderà in un viaggio per ridar vita all'intera foresta, incaricandolo di recuperare la luce dei tre elementi principali che sostengono l'equilibrio di Nibel, cioè acqua, vento e calore. Questo, a grandi linee, è come inizia la storia, la quale viene man mano svelata e spiegata al giocatore mentre progredisce nel gioco. Ori and the Will of the Wisps, invece, è il seguito di The Blind Forest ed è, ancora una volta, un gioco di avventura a piattaforme metroidvania nel quale i giocatori tornano a controllare Ori. A differenza del primo capitolo, qui Moon Studios ha rivisitato la bidimensionalità di The Blind Forest creando modelli tridimensionali e riproducendoli su sfondi multistrato. Per quanto concerne il gameplay, la formula non cambia. Anche in The Will of the Wisps, Ori può saltare, arrampicarsi, scivolare e nuotare per risolvere intricati enigmi. E nuovamente, ci sono abilità ed upgrade che consentono ai giocatori di sbloccare aree della mappa precedentemente inaccessibili. Ma a differenza del predecessore, in The Will of the Wisps il salvataggio dei progressi è automatico e non esiste più il sistema del Soul Links. Gli upgrade sequenziali del primo capitolo, poi, sono stati sostituiti da un sistema di frammenti, i quali possono essere acquistati o trovati in giro per il mondo di gioco e consentono di aggiornare o modificare le statistiche e gli attacchi di Ori. Visto che tali attacchi sono aumentati rispetto al passato, ora possono essere gestiti in tempo reale tramite un menu radiale ed associati al tasto che più si preferisce. Altra novità rispetto al passato è l'aggiunta delle missioni secondarie opzionali, le quali vengono offerte ad Ori da personaggi non giocanti che egli può incontrare qui-lì sulla mappa. Tali missioni consentono di guadagnare oggetti da collezione che vengono utilizzati per espandere l'area di gioco. C'è infine una nuova modalità, chiamata Spirit Trials, che consente al giocatore di correre verso un obiettivo nel più breve tempo possibile aggiungendo un lato competitivo al gioco grazie alle classifiche online. The Will and the Wisps mantiene la continuità narrativa con The Blind Forest, in quanto gli eventi si svolgono subito dopo la fine della storia del primo capitolo. Stavolta però il narratore è lo Spirit Tree della foresta di Niwen, un nuovo mondo di gioco. Le ultime uova di Kuru che, senza fare troppi spoiler per chi non ha giocato il primo Ori, erano state trovate nella foresta di Nibel, si schiudono dando vita ad un piccolo gufo che viene battezzato Ku ed allevato come parte della nuova famiglia di Ori. Nato però con un'ala danneggiata, Ku non è in grado di volare finché Ori non trova una soluzione al problema. Ku ed Ori si lanciano così in un volo che finisce per portarli fuori da Nibel fino alla foresta di Niwen, dove una tempesta li separa. E così Ori partirà alla ricerca di Ku, affrontando un viaggio pieno di insidie ma che darà un senso all'intera saga. Sia The Blind Forest che The Will of the Wisps sono stati un successo commerciale ed hanno ricevuto il plauso universale, nonché recensioni favorevoli con giocatori e critici che ne hanno elogiato la storia, lo stile artistico, il design degli ambienti, i combattimenti, le sequenze d'azione e la colonna sonora. Ma come mio solito voglio dirvi quelli che, secondo me, sono gli aspetti più riusciti e quelli meno riusciti dei due capitoli della saga, ovviamente nella loro versione per Nintendo Switch. E partirei con i PRO. 1. Entrambi i giochi sono deliziosi. Design, partitura musicale, gameplay, ogni componente è realizzato con cura. Un risultato incredibile se si pensa che Moon Studios è un collettivo di designer e programmatori che ha sviluppato i due giochi senza una sede fissa, ma con collaboratori che hanno lavorato da Austria, Australia, Israele, Stati Uniti ed altri paesi. Da una frammentazione così incredibile di menti, sono uscite fuori due perle che, al contrario, hanno una coesione incredibile. Insomma, la storia è fantastica, il mondo è mozzafiato e tutto ciò impallidisce in confronto al gameplay meravigliosamente realizzato, tanto che i due Ori svettano sia come giochi a piattaforme che di combattimento. Sono perfino stati considerati un esempio di videogames che si avvicina all'arte. 2. Entrambi i giochi si svolgono ognuno in un'unica grande mappa, senza alcun tempo di caricamento visibile durante l'esplorazione del giocatore. Nel primo capitolo gli sfondi sono tutti unici e non c'è alcuna duplicazione degli scenari. Per dire, ogni albero o elemento della natura posto in un determinato luogo si trova solo lì e non è mai più riutilizzato altrove. Su Nintendo Switch tutto ciò si traduce in scenari, con risoluzione 1080p e gameplay a 60fps quando si gioca in modalità docked, per poi passare a 720p nella modalità portatile. In The Will of the Wisps, invece, le cose sono state rese più complesse, con l'importante trasformazione di tutti i personaggi principali in modelli tridimensionali, posti su sfondi multistrato. Nonostante ciò, sempre su Nintendo Switch, il secondo capitolo di Ori continua a girare a 60fps, però la risoluzione si ferma al massimo a 900p in modalità docked e a 720p in modalità portatile. Dico al massimo perché in realtà essa è dinamica, ma non solo varia in base alle scene di gioco, ma anche perché viene regolata strato per strato. Gli strati sullo sfondo vengono resi con una risoluzione più bassa rispetto a quelli in primo piano, il tutto senza che il giocatore se ne accorga più di tanto. In generale, nella maggior parte dei casi, le aree più importanti di ogni scenario rimangono il più vicino possibile alla risoluzione massima, dando l'impressione complessiva di un'immagine finale a risoluzione più alta. Un trucco davvero molto intelligente. A questo si aggiunge un altro trucco, l'uso di due motori di illuminazione. Il primo è tra virgolette statico e la luce è dipinta direttamente sugli asset di gioco. Il secondo, invece, è dinamico ed è utilizzato per dar vita al mondo di gioco. La tecnica con cui lo fa, però, non è convenzionale. Ora, senza entrare nei dettagli tecnici, il risultato finale è un'illuminazione omogenea che non romina ma anzi esalta il design dipinto a mano degli asset di gioco. Perciò Moon Studios è riuscita ad ottimizzare entrambi i giochi su Switch, e con The Will of the Wisps lo ha fatto con un tocco innovativo che dà risultati impressionanti senza andare ad intaccare tutte quelle interessanti novità di design introdotte proprio col secondo capitolo. visto che entrambi i giochi sono stati portati su Nintendo Switch, ciò ha di fatto ampliato la platea di possibili giocatori. I diritti di distribuzione della serie Ori, infatti, sono stati acquisiti da Microsoft Studios un anno dopo l'inizio dello sviluppo di The Blind Forest, ed ovviamente l'azienda di Redmond ha tenuto i due titoli, specialmente il primo, il più a lungo possibile esclusive per Xbox e Windows. Poi gli sviluppatori hanno espresso la volontà di portare Ori su Switch, e così, prima The Blind Forest ed un anno dopo The Will of the Wisps hanno fatto la loro comparsa su Nintendo Shop. Infine grazie ad IEM e Beat sono arrivate anche le edizioni fisiche, e visto che io su Switch acquisto solo giochi in tale formato non posso che esserne molto felice. Detto questo, non sono tutte rose e fiori, anche se gli aspetti negativi che ho riscontrato sono abbastanza trascurabili. Uno, l'aspetto più rilevante, è il prezzo. I giochi in edizione fisica vengono venduti ognuno a 40€ mentre in edizione digitale i titoli costano rispettivamente 20€ e 30€, il che significa che l'edizione fisica del primo Ori costa esattamente il doppio di quella digitale, mentre la fisica del secondo Ori costa circa 10€ in più. Ora, cosa comprende questa differenza di prezzo? Al di là ovviamente delle game card e della confezione, per ogni gioco sono incluse alcune cartoline da collezione più un codice per il download delle colonne sonore in formato digitale. Ora, lascio a voi giudicare se tali bonus possano valere la differenza di prezzo. C'è da dire che le musiche di entrambi i capitoli sono stupende, e lo stile artistico è molto bello tanto che di conseguenza lo sono anche i disegni stampati sulle cartoline. Però forse sarebbe meglio attendere qualche sconto piuttosto che acquistare la versione fisica a prezzo pieno. E lo stesso digasi per il digitale. The Blind Forest è stato già scontato in varie occasioni sulle shop, e per The Will of the Wisps sarà sicuramente lo stesso. 2. La questione prezzo va considerata soprattutto perché i due giochi non sono particolarmente lunghi. Il primo capitolo si completa tra le 8 e le 12 ore, mentre per il secondo occorrono tra le 11 e le 17 ore. In entrambi i casi, a seconda di quanto si punta al completamento di tutte le attività principali e secondarie. Ecco, i giochi sono così avvincenti che mi sarebbe piaciuto durassero di più, e una volta completati non so quanto abbia senso fare run aggiuntive e la condivisione online dei propri tempi lascia abbastanza il tempo che trova. 3. Ci sono alcuni aspetti in entrambi i giochi che non sempre convincono. Ad esempio, in The Blind Forest, il fatto di doversi ricordare e di salvare è un po' frustrante, perché è frequente morire durante gli scontri con i nemici oppure in alcune aree di gioco che presentano ostacoli, e se ci si dimentica di salvare spesso, quando possibile, potenzialmente occorrerà di percorrere lunghe aree e sconfiggere nuovamente i nemici o completare di nuovo gli obiettivi già superati. Infatti, in The Will of the Wisps questa cosa è stata fortunatamente superata con i salvataggi automatici. Nel secondo capitolo, però, i combattimenti sono più complicati, ed in più mi è capitato di beccare qualche piccolo freeze che spero venga risolto con futuri aggiornamenti. Niente di eclatante che però andava segnalato. Insomma, tutti e due i giochi mi sono piaciuti tantissimo. Dalle immagini distruggente e bellezza visiva, alla colonna sonora curata, alla reattività del gameplay. C'è davvero tanto da apprezzare nel look and feel di Ori. E voi che ne pensate? Vi piacciono i due giochi? Ci avete mai giocato? Quale preferite? Fatemi sapere nei commenti perché sono davvero curioso di sapere la vostra a riguardo. Io mi fermo qui. Fatemi anche sapere se avete trovato utile del video. Vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao! 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 Ciao!